Capitano Annocca, l'ennesima vittoria convincente, complimenti innanzitutto per il gol che poi ha aperto le marcature sempre più vicini al titolo. Sì, diciamo che stiamo arrivando al termine, noi siamo sempre là, sempre con lo stesso impegno, quindi proviamo a fare tutti i punti possibili fino alla fine e poi faremo i conti. Ecco, a proposito, manca un mesetto scarso al termine del campionato al di là delle vittorie che potrebbero arrivare. C'è qualcosa che manca alla CRC per essere perfetta? Noi proviamo a non far mancare nulla, però certo gli acciacchi sono sempre gli stessi, qualche errore lo facciamo, anche oggi abbiamo subito un gol e ci dispiace perché proviamo ad essere sempre concentrati, però proviamo ogni volta a migliorarci, poi gli errori ci vanno bene per essere uno spunto di miglioramento continuo. Il lavoro è quello di sempre, quindi noi calderiamo sempre con questo impegno e proviamo a sbagliare sempre meno e questo ci sta portando ai risultati. Speriamo bene fino alla fine. Ecco, forse è l'unica nota stonata di oggi, il gol subito praticamente a gara finita. Sì, è vero, peccato anche per le due munizioni, era una partita tranquilla, quindi ci dispiace. Forse è più per le munizioni che per i gol, il gol può sempre venire, è pur sempre un errore perché è una disattenzione che non ci doveva essere, però va bene così, dai, in campo ci sono pure gli avversari, quindi va bene così. Grazie capitano. Grazie a voi, ciao.